in corsia 4 Noemi Lamberti specialista in proprio questa distanza 200 stile libero vice campionessa italiana a Roma ad agosto 2018 e medaglia d'oro nella stessa distanza ai criteri a direzione in vasca corta dove ha ottenuto anche le medaglie di bronzo nei 400 e 800 stile libero come da buona tradizione del Gantin tutte le corsie centrali dalla 2 alla 5 sono occupate dalle atlete del sodalizio bresciano quindi Noemi Lamberti a critare il miglior tempo di iscrizione al passaggio a metà gara erano appagliate lei e Gaia Besetti 30 e 19 su Annavogadro 30 e 27 passaggio di metà gara praticamente 5 atlete sulla stessa linea le prime 6 addirittura nello spazio di 80 centesimi Alessia ossoli 1 2 44 31 91 Annavogadro 1 2 54 32 27 Giorgia Tononi 1 2 57 32 18 questi passaggi delle prime tre ai secondi 50 metri ma siamo già ai 150 metri ultimo passaggio carometrato prima dell'arrivo Alessia ossoli 32 26 Annavogadro 32 52 Giorgia Tononi 32 56 ma siamo veramente nelle ultime fasi quattro atlete del Gantin su la stessa linea praticamente dalla 2 alla 5 con un leggero vantaggio in questo momento di Giorgia Tononi dalla corsia 2 in corsia 5 Annavogadro tutte del Gantin Brescia e Alessia ossoli dalla corsia 3 che la spunta 2 0 6 46 12 centesimi su Annavogadro 2 6 e 58 Giorgia Tononi 2 6 e 93 e allora ecco Grazie.